Siamo scappando, scappano tutti, scappano tutti, brucia tutto, in esplosione, in tedesco bruciano tutti gli olimpici, ci sono tante persone, arrivano tutti dai cavalli, vendovi, learntatevi, ci siamo nevi, scappano tutti, Si avvicinano! Si avvicinano! Si avvicinano! Si avvicinano! Ma non lo so! Si avvicinano! Si avvicinano! Aspettate! Non sono tedeschi! Non sono tedeschi! Interrompiamo le trasmissioni! Per comunicarti con una notizia extraordinaria Le Forze Armate di Tegeschi E sono armenci al campo americano La guerra è finita! Si avvicinano! La guerra è finita! La guerra è finita! Come stai? Come stai? Si avvicinano! Quando si avvicinano! Ma quando si avvicinano! Caro fratello, quanto vorrei scriverti questa lettera, ma purtroppo non mi è possibile. Posso solo scrivere, sperando che un giorno, in qualche modo, questo pezzo di carta straccia arrivi in mano tua e tu posso sapere che io sto bene. Quando arrivi qui, come prima cosa, ti sforgano, ti portano i vestiti, l'orologio, i documenti, le foto, poi ti rasano i capelli a zero, li ammassano i grandi mucchi, così fanno anche per le scarpe, i giocattoli dei randini, ti privano di ogni cosa, ogni oggetto, seppur di poco valore chi ha mai impresso qualcosa di quello che sei tu o della persona che eri prima di entrare qui. Dopo anno, perché chi è deportato in un campo di concentramento non può avere il corpo, anche il ricordo dei piammi del patigale viene schiacciato da l'idea di sopra fine. Poi consegna ad ognuno una specie di tigiano, una tuta riga bianca e blu, che diventerà il tuo unico altro. E in fine che segna un numero. 16.924. Questo è il mio, sembra impossibile, ma la gente la va dentro, ci vengono stipati in ordine nelle nostre cieli, prigionietta, riusciamo solo per lavorare, lo premo che a quanto le cammini c'erano, le braccia non si sollevano lente, stiamo in fila per delle ore, solo per ricevere un po' di frodo in figlio, con del quale vecchio mollato, solo questo, una volta al giorno. Questo è il posto in cui, quando conosci una persona, non sai se il giorno dopo la rivedrai, fiamme escono nei bordi crematori, fumo giorno e notte, l'odore è terribile, insopportabile, le diretti uomini che mi si diricono interminabili, bambini, giovani, anziani, tutti vanno a morire nello stesso posto, nello stesso mondo. I giorni di storie di persone diverse diventano genere, insieme ai loro corpi. Ieri camminavo per strada, stavano andando a lavorare, e c'era un vecchio che stanzava in cortile, un ragazzo del mio gruppo, che rivolse un gioco chiaramente nostalgico, con gli occhi pieni da morire, doveva essere suo padre, non sai. Il giorno dopo non c'era più, il ragazzo di spiega di vaccino, che non aveva messo di mortizia nel punto esatto, ordinandoli da un asserso. Per questo era stato massacrato, restato assalto, uscito. Ora io mi chiedo, è questa umanità, è per questo che riesce a pensare molto, per uccidere, sterminare le genti che secondo alcuni sono diverse, o considerato un peso sociale? No, o perlomeno voglio sperare che non sia così, fratelli. Se è questo il vero disegno che Dio ha per noi, desidero morire subito, cosa si può vivere in un mondo disumano? Sono ormai 4 mesi e 13 giorni di riparare, e sono vivo, forse è solo fortuna, oppure qualcuno nassù che mi chiese destinato a sopravvivere, per raccontare questo libro. Qui, dove mi trovo, all'entrata c'è una scritta, Arvai, Mark Frey, che in tedesco vuol dire il lavoro a rendere liberi. E la prima cosa che ho visto quando sono arrivato qui, non mi rimane a che graffarne a questo, sperare di guadagnarmi la libertà, in qualche modo, lavorando solo. A volte preferisco pensare delle persone che sono andate a morire e perché non si sono impegnate abbastanza, non hanno lavorato al massimo nelle loro capacità. A volte, raccocciarsi delle piccole fucine aiuta la vera mano. Non voglio lasciare che non abbiamo giusti maggiore, voglio prendere, sperare, perché è tutto quello che mi rimane. Spero che dovunque mi trovi, tu stia bene, ci rivedremo presto, e sono sicuro. Ti voglio bene! La 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 Lo, 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 irara, iata in mani, can, 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 chiede, bere, bere, zamane. Lo, 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 irara, iata in mani, si'i teka, un'isa'i teka, em'a en ma, em'a en la muni. Si'i teka, un'isa'i teka, em'a, em'a, em'a en la muni. Can, 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 chiede, bere, 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 zamane. Lo, 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 irara, iata in mani, can, 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 chiede, bere, 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 zamane. Lo, 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 irara, iata in mani, si'i teka, un'isa'i teka, em'a, em'a, em'a en la muni. Si'i teka, un'isa'i teka, em'a, em'a, em'a en la muni.